E' venuto il momento, Mary. E' venuto il momento che tu capisca. Loro sono quelli del mondo di mezzo. Non del vostro mondo o del nostro mondo, ma di quello di mezzo. Non del vostro mondo o del mondo o del mondo o del mondo o del mondo. Non del vostro mondo o del mondo o del mondo o del mondo o del mondo. Lei è mia figlia. Non è così? E' una bambina bellissima. Sembra davvero un angioletto. Oh, voglio toccarla. Perché ha paura di me? Deve andarsene adesso. Perché? No, perché? Oh, vi prego, io voglio abbracciarla solo per un momento. Devo farlo. Devo, è mia figlia. Ti prego, non avere paura di me. Non voglio farti del male, capisci? Io sono tua madre. Ti voglio bene. Sono tua madre e ti voglio bene. Oh, ti voglio bene. Io farei... Oh, tesoro. No, no. Mi prego, mi prego, non puoi restare, non puoi restare con me. Questo non è possibile. Non potrebbe vivere, sopravvivere nel vostro mondo. Non potrebbe vivere, sopravvivere nel vostro mondo. E' ora che tu torni, adesso. Potrò... Potrò rivederla qualche volta. Sì. Potrò rivederla qualche volta. Potrò rivederla qualche volta.